ragazzi io mi sono preso una pausa per dare un'occhiata online se trovavo informazioni riguardo a questo motorino senza spazzole purtroppo con questa sigla che è mlbl 08 48 18 oppure ilbl 08 48 18 online non ho trovato nulla ho cercato con google e con yahoo e quindi non vi so dare nessuna informazione riguardo a questo motorino brushless quello che di certo vi posso confermare è che il gruppo mandrino e selettore della velocità risulta essere qualcosa di buono tutti gli ingraggi sono in metallo al momento dell'utilizzo si ha una buona sensazione quindi nulla fa pensare a un trapano abitatore di cattiva qualità anzi al contrario 80 euro possono essere anche una cifra onesta per questo prodotto ciò che sicuramente non mi è piaciuto è il discorso della batteria cioè io compro una batteria, pago una batteria pensando che una 20 volt e alla fine calcolatrice alla mano e il numero di elementi delle batterie alla mano risulta essere una 18 e mezzo avrei gradito più onestà da parte di Parkside avrei gradito proprio la scritta 18,5 quindi non ho fatto la cosa giusto per una questione di marketing ma il marketing insomma quando poi si scoprono queste cose di certo non ci fa una bella figura e che altro? nel momento in cui vi arriverà in Italia assicuratevi della possibilità di avere tutti i ricambi e soprattutto andatevi a comprare una batteria in più se vi chiedono 20-25 euro ancora ci rientrate in base a quello che costano i singoli elementi che la compongono quindi anche 20-25 euro è una spesa onesta e accessibile per i 5 elementi interni se ve la doveste andare a smontare voi un giorno perché gli elementi si esauriscono comunque vi verrebbe a costare la stessa cifra e quindi prevenire è meglio che curare e due batterie sono meglio che una specialmente se dovete fare un pochino di lavori ma anche montare un armadio magari insomma una batteria diventi insufficiente perché è mezza carica insomma iniziate il lavoro l'altra la mettete sotto carica e non vi dovete fermare non so se rendo l'idea per il resto nulla io normalmente sono super critico su questi prodotti ma in base a quello che vedo non è male ok quindi se lo trovate utile e necessario io vi dico che da parte mia lo potete comprare tranquillamente e non dovreste avere brutte sorprese o trovarvi male è ben bilanciato ha un motore che dovrebbe confermare le aspettative curioso che non si trovi nulla al riguardo per cambiare il motore ma nella confezione vediamo ci sono tre anni di garanzia sembra di no gli anni di garanzia sono cinque qui avete cinque anni di garanzia tranne la batteria la batteria non è coperta da garanzia ma il resto del trapano sì cinque anni sono una bella garanzia quindi comprate le occhi chiuse a questo punto fatevi una bella fotocopia dello scontrino perché vi ricordo che lo scontrino è in carta termica e fa scomparire le scritte la fotocopia appiccicatevela con lo scotch trasparente dentro la valigetta e niente buon lavoro ragazzi con cinque anni di garanzia c'è poco che dire il trapano, i componenti elettrici, la parte meccanica assolutamente io alzo le mani e questo è tutto ciò che vi posso dire ok ragazzi niente se avete trovato utile il video un like non ci guasta mai iscrivetevi al canale e di volta in volta sarete nuovamente aggiornati su tutto quello che salta fuori su tutto quello che vado comprando e di cui vado facendo le recensioni ok ciao e alla prossima